bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video scusate se non vi alzo le mani io sono xyuder e oggi ragazzi sto giocando insieme a voi per la prima volta a rules of survival rules regole di sopravvivenza rules of survival ragazzi è un videogioco per android quindi per i nostri dispositivi mobili e come potete vedere ragazzi ricalca molto molto fedelmente battlegrounds ragazzi chi non lo conoscesse oh oh mi sparano porca porca aspetta aspetta non posso scappare aspetta che mi sparano aspetta ricalca battlegrounds praticamente ragazzi è un gioco di sopravvivenza si comincia in 120 giocatori quindi tantissimi ragazzi devo prendere questa macchina devo assolutamente prendere questa macchina drive scappa molto bene swipe to adjust ok molto bene in 100 no e va a morire così in 120 giocatori ragazzi nell'unico server in un unico server quindi ben di più di fortnite o battlegrounds e come vedete ragazzi ha un sacco di roba interessante che potrebbe piacervi a me sinceramente sta cominciando a piacere praticamente adesso vi faccio vedere ragazzi la home page innanzitutto si scarica da google play quello che abbiamo tutti installato sul nostro dispositivo questo è dopo 590 mega di gioco ragazzi 590 mega di gioco un piccolo aggiornamento dopodiché avremo questa pagina iniziale ragazzi come vedete questo è il mio personaggio il figaciovane guardalo lì guardalo lì ragazzi allora possiamo vedere innanzitutto che sulla destra in basso abbiamo la modalità dove possiamo giocare solo duo o squad ragazzi quindi fighissimo esattamente come fortnite abbiamo la possibilità di giocare con i nostri amici possiamo scegliere il tipo di match che è momentaneamente ranked poi c'è anche custom ma come vedete ragazzi è bloccato quindi probabilmente ancora dovranno implementare questa nuova funzione vi ricordo ragazzi che il gioco è ancora in fase sperimentale vedo che si va a controllare come vedete ragazzi sopra abbiamo invece il logo degli amici invite che sarebbe relativo appunto alle nostre amicizie si può scegliere tra i giocatori che sono online in questo momento i nostri amici che bisogna ovviamente aggiungere e recent mates potrebbero essere i giocatori con cui ci siamo incontrati nelle ultime partite sempre un pochettino più in basso sulla destra abbiamo questo pollone ragazzi non so se avete visto il pollone lo rivedete là in basso praticamente se noi andiamo a condividere su facebook sui social il gioco ci darà degli oggetti bonus io ho preso i capelli che è hip air style volevo farvi vedere anche la mimetica la canottina mimetica ho cliccato su claim e lui me l'ha assolutamente attribuito poi come vedete c'è un tasto cinese che dobbiamo cliccare lì in basso a destra lo clicchiamo e tranquillamente ci viene mostrato il nostro armadietto chiamiamolo così prima di farvelo vedere anzi ve lo faccio vedere ragazzi lo troviamo a sinistra dove c'è scritto looks ci clicchiamo sopra possiamo scegliere il personaggio se maschio o se femmina possiamo scegliere i vestiti sto cliccando sui tasti lì a sinistra abbiamo appunto la mimetica la andiamo a mettere se non la vogliamo mettere credo che ricliccandoci sopra infatti la va a ritogliere gli mettiamo la mimetica che è un pochettino più rambo e poi abbiamo others momentaneamente non c'è niente e dovremo ancora scoprire di che cosa si tratta abbiamo una classifica ragazzi cliccando nel tasto sotto la andrete poi a vedere qua parla dei punti in ranked poi c'è l'overall rank le vittorie le uccisioni quindi già classifiche implementate l'immancabile shop ragazzi abbiamo il box come potete vedere a mille soldi non so come si chiamano ancora sinceramente noi ne abbiamo 986 quindi completamente gratuito la possibilità di acquistare questo box perché li guadagniamo ovviamente alla chiusura di ogni match in alto c'è il tasto back per tornare indietro se clicchiamo invece sui dollari appare il pollone andiamo a fare uno screen al pollone che ne ho bisogno e come vedete ragazzi invece con i danè si possono comprare i diamanti abbiamo la sezione amici quali possiamo aggiungere dobbiamo vedere innanzitutto cercare il nickname per poter aggiungere i nostri amici e giocare assieme adesso non invito nessuno perché non c'è ancora nessuno che ce l'ha e poi c'è questo tasto che non so cosa abbia fatto l'ultimo ha duplicato dai andiamo a farci una partita ragazzi vi ho fatto vedere tutto è per android ve l'ho appena spiegato quindi voi userete le due dita per muoverlo qualora ci giocate dal vostro dispositivo io sto in realtà incominciando a settare la tastiera e il mouse per giocarci da blue stack non è assolutamente scomodo come vedete ragazzi bellissima la grafica se consideriamo che è un gioco per dispositivi mobili possiamo girarci a 360 gradi la mappa è veramente veramente enorme ragazzi e possiamo tirare le cartelle lo vedete ragazzi lì a destra c'è il pugno poi il nostro personaggio può saltare può accovacciarsi può addirittura sdraiarsi cosa che in fornite non c'è mentre in battleground si e a sinistra del nostro nome che vediamo sotto poi apparirà anche la barra della salute abbiamo il nostro inventario momentaneamente non c'è nulla si capirà bene quando l'inventario è pieno perché c'è una barra rossa che gira come vedete ragazzi immancabile areoplano e guardate in alto a destra ragazzi siamo dentro in 120 incredibile guardate la mappa guardate la mappa ragazzi è a perdita d'occhio incredibile incredibile che meraviglia ragazzi non vedo l'ora di impararci un po a giocare bene a me piacciono molto i giochi come si dice realistici quindi anche se apprezzo tantissimo fortnite a me piacciono molto questi giochi realistici poi ragazzi non vi sto neanche a dire quanta roba potremmo trovare mentre luttiamo le case noi tranquillamente possiamo decidere il nostro punto di discesa siamo già in 119 ragazzi credo che per adesso sia il gioco del momento in genere survivor sparà tutto con più disponibilità di ingressi in un unico server perché 120 giocatori contemporaneamente sono davvero davvero tantissimi per un gioco per cellulare allora tanto attiriamo molto tranquillamente partiamo ragazzi facciamoci qualche minuto di partita vediamo se lui ci abbia voglia di muoversi ok non è ancora facile settarlo con la tastiera e col mouse quindi ogni tanto mi va oi la miseria le biciclette non ci posso credere questa non la sapevo non ci posso credere abbiamo la biga abbiamo la biga ragazzi no vado in biga vado in biga scusate ma no vai in biga vai 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 aspetta che non gira aspetta che non gira porca biga porca aspetta possiamo andare con la biga non ci credo abbiamo perso uno di vita per andare con la biga dai pedala ok bisogna pedalare bisogna ma che storia ma dai la biga non ci credo fammi fammi fare oh guarda dietro il tipo fammi fare lo screen con la biga che c'è dietro il tipo scappa guardalo 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 pensa che non l'abbia visto in realtà non ho armi quindi me ne vado me ne vado così ragazzi via con la biga via con la biga ok ok andiamo a lutarci ma che storia la bicicletta andiamo a lutarci un'altra casa ragazzi e dobbiamo comunque stare sempre molto attenti alla safe area questo già lo sapete sicuramente ragazzi io vi consiglio davvero di andare a provarlo me l'ha consigliato un ragazzo me l'ha consigliato poi anche gennaro e allora ho detto dai proviamolo proviamolo come cacchio si esce dalla bici get off ok perfetto torniamo nella modalità per sparare e attenzione dobbiamo è un po scomodo aprire le porte ragazzi devo fare così aprire la porta rifare così entrare devo imparare devo essere un po più veloci chiudiamo la porta ragazzi e già vediamo che in basso c'è della roba interessante ci prendiamo il backpack che sarebbe lo zainetto e abbiamo le bende subito per noi molto bene sbrigati ok un po lento un po lento nei movimenti ma va bene così andiamo un attimo che il dpi del mouse è buono abbiamo per terra ancora ragazzi un altro backpack lo prendiamo e delle munizioni molto bene vediamo se qua la porta ci dà all'esterno ad un'altra stanza no ci dà all'esterno c'è anche la bombing zone ragazzi avete appena visto anzi state vedendo ancora il messaggio che è apparso a schermo praticamente c'è una zona rossa dove casualmente questo succede in battleground per chi non l'avesse ancora provato dove casualmente vengono scagliate delle bombe quindi state attenti ragazzi perché potrebbero farmi veramente veramente un sacco male allora noi andiamo ancora avanti per qualche minuto ragazzi non voglio stufarvi troppo vediamo un pochettino c'è una no è un un mirino un 8 per ragazzi per il credo fucile di precisione che non ho ancora trovato in realtà molto molto bello ragazzi molto molto bello mi piace mi piace mi piace allora qua abbiamo la tannica della benza ragazzi anche questa c'è in battleground ci servirà perché vuol dire che hanno messo anche la benzina ai veicoli meravigliosi veicoli ragazzi sono molto molto utili soprattutto nelle fasi finali quando dovete spostarvi velocemente allora stiamo attenti ragazzi stiamo attenti siamo dentro la safe area che però si sta stringendo no è una mia impressione si stava semplicemente assestando avanti ancora siamo dentro in 69 ragazzi siamo in 69 e ce l'ha un veicolo non so se lo posso andare a prendere ma guardate ma guardate quanto è grande che meraviglia che meraviglia io spero che voi appreziate ragazzi vi ricordo intanto mentre siete qua a godervi questo spettacolo di gioco per cellulare di lasciare un bel like ragazzi e fatemi dei commenti qua sotto se volete che porto qualcosa relativo a rules of survivor scrivetemelo mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto dai che andiamo allora attenzione c'è un altro backpack livello 1 ma prendiamo anche no non abbiamo preso l'armatura aspetta prendi l'armatura ok perfetto abbiamo l'armatura ci riduce il non è che si chiama armatura il giubbotto antiproiettile che ci riduce i danni subiti entriamo ancora con noi ci avevamo dentro una che ci stava aspettando ragazzi non è facile switchare col mouse devo ancora un po' impararmela però 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 ragazzi questo è per quanto riguarda rules of survivor vedete abbiamo anche i livelli ragazzi siamo bronzo 3 adesso abbiamo preso solo 10 punti vediamo se per caso ci ha dato dei soldi magari ci apriamo anche un primo chest che ne so che ne so vediamo 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 allora bisogna andare nello store 1045 ce lo andiamo ad aprire il cestino ragazzi ce lo andiamo ad aprire quindi facciamo un bollo scrinello che mi serve andiamo a fare pur chase e prendiamo ragazzi un bomber sembra una roba outfit white pur chase another non posso a uno solo me ne ha dato andiamo a vederlo andiamo a vederlo looks clothes outfit guardalo qua guardalo è stito tranquillo ragazzi va bene ragazzi va bene questo è davvero tutto io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qua con me vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo stasera ciao ciao